Loro sono sicuramente i campioni mondiali del mondo della rettifica, parliamo di Kober Schleifring che è un gruppo che porta con sé ben otto marchi storici in questo settore. Ovviamente fra questi marchi ce n'è uno a cui siamo particolarmente affezionati, stiamo parlando di Studer S41, una macchina che ha completamente rivoluzionato il modo di fare rettifica.